Siete pronti per il video? Sì, signor Capitano! Non ho sentito bene, ripetete un po'? Sì, signor Capitano! E let's go! Ah, io non so, non so perché non succede molto spesso, quando mi metto, mi appoggio leggermente il pipino fuori per andarmi a fare la doccia, tutti si mettono a ride, non so ancora il motivo esatto. Però, va beh, fa niente. Forse è storto, boh. Penso, io neanche lo vedo, chissà che cazzo si ridono. Assolutamente. Ognuno ha in relazione come meglio crede. E riesco di sta cosa, eh? Ah, attaccavo l'atore, lo sapevo! Lo sapevo, attaccavo l'atore, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che attaccavo l'atore, io lo sapevo, io lo sapevo che attaccavo la torre, vaffanculo, cani lupo. Lo sapevo che attaccavo la torre. Oh, oh, non posso muovermi. Vabbè, vaffanculo, si è di merda. Ero stoccato nei si est, ragazzi. Lol. Il dividendo dovrebbe essere in circa 75 euro, dividendo un etto 58 euro. Molto bene. Io so drittissimo. Me ne hai visto il cazzo a me? Cosa, che ne sai di cosa vuol dire essere? Cazzo, mi sono tutto, cringe. Se non è da messa, Nico, leggi il titolo. Tutti abbiamo il cazzo che punta. Ma è meglio avere, ragazzi, il cazzo curvo. Penso, io l'ho doppiamente curvo. Verso all'insù e verso destra. Se tu... Scusi, ma dove devo andare? Di là. Oh, matta! Matta! What you doing, bro? Mamma mia, che giocatore, il top king! Mamma mia, che giocatore, il top king! È il momento di mangiare pasta con le pongo, ragazzi. Con un goccettino di vino bianco per arreglare la giornata. Gli dicono, guarda che volete che nell'hotel c'è anche la lavanderia. Noi pensavo fossimo compreso. Di guarda questo hotel da 4 stelle e mezzo. No? Questo hotel da 4 stelle e mezzo sarà compresa sta cazzo di lavanderia, no? Questo è il pensiero che abbiamo avuto. Andiamo a fa! Poi ci cadono il conto e fanno sì, sono 1500 corone. Faccio, vabbè, 150 knock, 7 euro. No? Io avevo capito... Perché poi ero in live. Io avevo capito 150 knock. Che equivalgono all'incirca 15 euro. C'è tutto la via mi staspa, ma... Guarda che ha detto 1500. Faccio, ragazzi, ma che cazzo dite? Faccio, ragazzi, ma che... Ma la stradina cazzata, non è mai vero. Trovare se vennevo 150 euro per aver lavato 4 vestiti. 150 euro. Faccio, scusi, non ho capito quanto ha detto... Ho venuto tutto in inglese, eh. E mi fa... Eh, 1000. Faccio... 1000? 150 euro per due paglia di jeans, due magliette e due calzini. Oh, shit. Lo faremo... Just a chicken! Eat your vegetable! Minchia, questa la dobbiamo clipare, la metto come sound. Come sound alert. Eat your... Vegetable! Lì fu grazie del follow, mate. Quante cose. Il brutalize. Certo, non sto scherzando, è appena successa una cosa stranissima. Non ve la racconterò perché... Molto strana. Presa da un punto di vista, omofobo, razzista, qualsiasi cosa, ti bannano. Questo è... A me piacerebbe molto fare più botto di Dio, sono una persona che... Cioè, letteralmente non odio nessuno. Non odio nessuno. Tranne te. Tranne te che stai vedendo questo video su YouTube e non metti like. Pezzo di merda. Sono entrato per questo, what do you mean? Che fai, rimani o te ne esci? Che è un ambiguo. Fammi la Q, bro, che ti entro dentro. Che senso, intri dentro, cane? Oh, no, 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 aiuto! Aiuto! No, 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 no. Se avessi messo niente moriva? No. Oh, sei un pezzo di merda, bro. Ti pare che mi canca sto livello? Ma che cazzo di roba mi c'hai? Oh, sei un pezzo di merda. Il tuo turret ha stato distruttato. Era il clone. Orca, tu ne ho abbedato. Prima non c'era il clone fuori. Eh, le blanche è too strong. Le blanche è fortissima contro le fiora. È troppo forte. Oh, che cu... Porca il vant... Ho trollato, lo vado a killare. C'ho pure 400 col dubbanti. XD, ok, mate. Non c'ho fredato, proprio. Si, abbiamo questa cosa, porca troia che gliela. Oh, giusto, e mo' sono tiltato veramente, però, scusatemi, eh. Eh, adesso sono tiltato come un Saiyan. No, due volte su due, cazzo. Ragazzi abbiamo K-Donna che andremo... Attenzione, ce le manda dirette. O così, 35x dirette. Straight, pam. Beh, in realtà non è auto, tanto di H1, un po' di più. Tutte le bonti. Poi andiamo lì con K-Donna. Mmm, peccato. Finchia. È andato un altro artolino in questo, ma è mezzo matto. Ha scapocciato. GG all'11, ragazzi. GG all'11. GG88888888. Iroh, ma che cazzo... Allora, ragazzi, abbiamo asso X e sciova 35x e le mandiamo dritte. Se qua sciova cogliamo, ragazzi. Preparatevi. Non lo foda se sei. Vabbè, 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 vabbè. Che giocatore. Che giocatore, ragazzi. Assurdo. Uno dei migliori giocatori in tutta Italia. Che run. Che run. Ero girato. Ero girato. Ero girato dall'altra parte. Ero girato, chat. Ma l'avete visto? Che ero girato dall'altra parte con una massacasseria? What? Ragazzi, sapete che mi è successo stanotte? No, ma ve lo racconto. Mi sono svegliato. E ero... Io ho dormito in mutande stanotte. Mi sono svegliato. E ho detto, oddio, me devo mettere qualcosa perché mi stanno a guardare. Non so io che mi stanno a guardare. Mi sono svegliato, mi sono svegliato, mi sono svegliato, mi sono messo il costume. Sono andato di qua, in quest'altra stanza. Fai sotto la panetta mi sono levato il costume. E io mi sono svegliato stamattina e ho detto, ma... L'ho fatta veramente sta cosa? Ah, il cassetto del costume l'avevo fatta perché era tutto sconfigliato. C'è che cazzo? C'è che cazzo? Perché l'ho fatta? Buono, buono. A me li ha scalati, a te li ha scalati. Alla moto li ti do. Comboia sta cazzo di cazzo. Disuniamoci, disuniamoci. Certo che se tu sei un coglione, tanto ho un coglione. Mb, un cazzo, porca troia. Sei un coglione, dude. Ma non gli faccio danni! Non gli faccio zero danni! Ma è impossibile! È impossibile! Ma ti faccio zero danni, dude. È impossibile! Nooo! Non mo' ultato! Ho cliccato e non mi ha mandato la ulti, raga! What? What? Il vostro cano vi mando bacione e ci vediamo. Non so quando. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!